La sanità in Campania ha fatto passi avanti, ma rimane il problema dei controlli sulle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate. L'allarme è lanciato dal presidente della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. E un unicum, spiega Oricchio, quello delle strutture private accreditate che drena risorse che devono essere gestite con attenzione. Oricchio cita un giudizio in corso alla Corte dei Conti su un istituto per la cura del diabete. Secondo l'accusa della Procura Contabile sarebbe stata sforata la capacità operativa massima con l'abbassamento del livello qualitativo delle prestazioni. Il presidente della sezione giurisdizionale Campania sicura stiamo valutando su sollecitazione della Procura con attenzione queste risorse che possono essere sottratte al diritto alla salute dei cittadini. A snorciolare alcuni dati il procuratore regionale Antonio Giuseppone nella consueta conferenza stampa che precede l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel 2023 sono stati 84 in Campania gli atti di citazione contestati dalla Procura della Corte dei Conti per un ammontare del danno accertato nei confronti dell'erario pari a 26 milioni di euro derivanti dalla gestione di fondi comunitari e regionali. Ascoltiamo. Gli effetti nefasti e negativi di una gestione gravemente negligente del denaro e dei beni pubblici ricaderebbe sullo Stato e cioè su tutti noi e anche su di voi quindi nessuno di noi sarebbe escluso dagli effetti negativi di una cattiva gestione del denaro pubblico. Scorso anno noi abbiamo archiviato all'incirca 1300 fascicoli istruttori e abbiamo emesso 84 atti di citazione quindi facendo la proporzione stiamo a meno del 6% di fascicoli che sono sfociati in un atto di citazione, in una contestazione a qualcuno in un giudizio di responsabilità.